Tu quanti fratelli hai? In famiglia siamo 9 9? Sì 6 fratelli hai Ho 3 sorelle e 5 fratelli Ah quindi più i genitori Ah sono i figli? Una scuola di calcio un po' Ma perché mia madre ha preso un altro marito E poi siete tutti insieme Però di mio padre sono più piccolo Ah sei più piccolo del tuo padre Quindi sei del primo padre Con la primaria quanti gol hai fatto? Ho fatto due gol Perché quando ero in primavera Mi facevo giocare mezz'ala Quindi ero più difensivo Diciamo più difensore che attaccante Però tu sarei sull'esterno Sì più esterno Ecco quello Eh Sono 8 minuti Ciao ciao Vincere Ecco come caratteristiche Tu ti vedo più esterno? Sì mi sento bene esterno Perché quando sono in Italia Quando sono venuto in prova Giocavo esterno Mi sento benissimo la volta Da che essere il tuo padre Da che essere il tuo padre Dio